Accendi la tua voglia di... La Sirenetta! La Sirenetta e Retriturne devono difendersi da mille insidie e laverinti sottomarini della strega del mare. Mega Games! Tre favolosi megagiochi in una sola cassetta! La moto di Super Angle! Il calcio di World Cup Italia 90! L'intelligenza di Colos! Street of Rage! Armi Ninja! Scegli uno dei quattro eroi di Street of Rage 2! L'avventura è Mega Drive! E giochi preziosi!